Avete notato che tutti i testimoni del Body Positive sono belli che fingono di non esserlo? E io per sto pezzo ho letto qualunque articolo sui testimoni del Body Positive, ho visto qualunque intervista ai testimoni del Body Positive, ho visto qualunque video con i testimoni del Body Positive, e non c'è un testimoni del Body Positive, non c'è un testimoni del Body Positive su cui non mi sia fatto una sega, sono stupendi, Ashley Graham, Selena Gomez, Gesù Momoa, come cazzo mi devo sentire rappresentato da Aquaman del cazzo io? In Italia chi sono le più famose a testimoni del Body Positive? Vanessa Incontrada, Emma Marrone e Claudia Gerini, tre fiche che io e te neanche col binocolo, vedremo mai!